Cosa sono Dark Fantasy e Grim Dark? Sono la stessa cosa, sono due cose diverse. Ciao a tutti da Livio Gambarini di Rotte Narrative Realtà di Formazione per Aspiranti Autori Professionisti. Sentite cosa mi chiede Lilith Fortunato un giorno fa. Buonasera Livio, so che il commento non c'entra pieno col video specifico, era sotto il video, puoi scappare dalle etichette letterarie. Ma da tempo ho un dubbio, riguardo due diverse etichette che vengono spesso confuse e mescolate fra di loro. Parlo del Dark Fantasy e del Grim Dark, che sembrano sovrapponibili, ma, per certi aspetti, ma diversi nelle definizioni che si possono trovare nei forum su internet. L'unica cosa che ho intuito, ma di cui non sono completamente certa, è che entrambi i generi si distinguono abbastanza dal High Fantasy di stampo tolkieniano, poiché quest'ultimo dà risalto al classico eroe senza macchie e senza paura, che invece nel Dark Fantasy e nel Grim Dark viene spesso sostituito da un anti-eroe. Potresti quindi fare un po' di chiarezza sui sottogeneri cupi del fantasy, prima che social e internet mi facciano impazzire? Ti ringrazio e ti auguro buona fortuna, buona scrittura. Allora Lilith, certo, con piacere, parliamo, torniamo a parlare di fantasy. Noi ogni anno dedichiamo un mese al fantasy, di solito è il giugno, quest'anno a giugno avevamo altro da fare e quindi abbiamo saltato l'appuntamento mensile con il fantasy, però non preoccupatevi, lo recupereremo adesso a ottobre mi pare che abbiamo piazzato il nostro mese del fantasy nel 2023 e torneremo a parlare di fantasy. Tra l'altro parleremo specificamente di dark fantasy in questo mese del fantasy sul canale YouTube di Rotte Narrative, perciò preparatevi a una serie di contenuti, di approfondimenti, di disamine e di materiali proprio in questo campo. Parleremo di fantasy in generale, ma tra le varie branche del fantasy ci focalizzeremo su quella del dark, dopo aver scelto nel 2021 la sfumatura principale di epic heroic fantasy o high fantasy, e nel 2022 il romance fantasy. Abbiamo per adesso coperto queste fette e quest'anno è la volta del dark. Ma che cos'è il dark fantasy e che cos'è il grimdark? Allora, tanto per cominciare ti correggo grammaticalmente, perché il modo in cui l'ho sempre visto scritto non è grimdark, come i fratelli Grimm, bensì Grimm con una lettera, con una M soltanto, nella parola inglese Grimm, che è appunto cupo, crudo, d'accordo? Quel senso. Grimmdark. Allora, dark fantasy e Grimmdark sono la stessa cosa? No, non sono la stessa cosa, non sono esattamente la stessa cosa, potremmo definirli come un insieme e un suo sotto insieme, d'accordo? Abbiamo quindi il dark fantasy che a grandissime linee è il fantasy dalle tinte cupe con tutto ciò che questo può significare. E poi al suo interno abbiamo il Grimmdark, che è sicuramente appunto un cluster, è un insieme di classe inferiore all'interno dello stesso macro insieme. Inferiore non per qualità letteraria, prima che qualche sempliciotto capisca male, è un sotto insieme di un insieme più grande. Perciò certo che trovi delle aree di sovrapposizione fra Grimmdark, fra modi di parlare e di descrivere il dark fantasy e il Grimmdark, per questa ragione qua, semplicemente. Grimmdark è una corrente del dark fantasy, abbastanza recente perché non ha più di una ventina d'anni di vita a esagerare e si è, diciamo, consolidato, poi non è mai particolarmente rilevante, pur parle stare a tracciare esattamente la genesi, la nascita, perché poi c'è sempre chi dice è George Martin quello che ha creato il Grimmdark e chi poi lo bacchetta e dice assolutamente no, il Grimmdark esisteva già da prima, lo trovavi all'interno dei GDR di Martelli da guerra, di Warhammer, lo trovavi all'interno delle opere di... c'è chi lo fa risalire a Moorcock, non sono tanto d'accordo, ma insomma, chi se ne frega di queste cose, ragazzi? Chi se ne frega di queste cose? Noi su Rotte Narrative non ci occupiamo di andare di questioni di lana caprina, se vi divertono questi dibattiti, se siete tra quelli che perdono il loro tempo a dibattere se Star Wars sia fantasy, sia science fantasy, ossia fantascienza, benissimo, andate pure a giocare dove più vi è grada. Qua di solito noi parliamo di scrittura, di narrativa da un punto di vista pratico, perciò se ha una rilevanza, se ha un impatto sulla definizione del pubblico che è più interessato a quel genere di libro, allora è un discorso e ne parliamo, altrimenti non ci interessa, e lasciamo la questione ad altri lidi, perché è questo che a noi interessa delle etichette, dei generi letterari, non la loro definizione teorica, di teoria letteraria, ci sono un sacco di testi, anche interessanti, che potete leggere, potete studiarvi, non è quello che facciamo qui su Rotte Narrative, io cerco sempre di concentrarmi su solo e unicamente su cose che abbiano un impatto, una rilevanza pratica, concreta, nel lavoro quotidiano, e non del scrittore professionista, perciò a noi, a voi, non interessa sapere esattamente come sia nato il Grimdark, poi ne possiamo parlare, lo ripeto, è interessante, saperlo può aiutare, può dare degli spunti, non è quello di cui ci occuperemo qua, ne parleremo nel mese del Dark Fantasy, d'accordo? vi rimando a quei contenuti che saranno sicuramente più approfonditi su questo argomento, se vedo che vi interessa, se no ci concentriamo sulle cose utili, d'accordo? Che sarebbe comunque in linea di massima, una cosa auspicabile. Definizioni dei generi letterari, questa è una cosa su cui voglio spendere una parola o due, le definizioni che trovi sui forum circa i generi letterari, lasciano comunque sempre il tempo che trovano, i generi letterari rifuggono dalle definizioni, ricordati sempre che troverai, ogni qualvolta penserai di aver trovato la definizione conclusiva, tombale e assoluta di un genere letterario, scoprirai che ne esiste almeno un'altra cinquantina altrettanto definitive, tombali e lapidarie e complete. Perciò è inutile, è come combattere i mulini a vento, lascia perdere. Le etichette sono intercambiabili, cioè non parlano di cose univoche e facili da chiudere all'interno di un recinto, perché non è così, semplicemente non è così che funziona. Nel nostro corso scrivere romanzi fantasy, questa questione l'abbiamo approfondita e snocciolata per bene, perché i generi e i sottogeneri non sono nazioni con dei confini tracciati su una mappa, ma sono uno spazio tridimensionale immerso in nebbie di vari colori che sfumano in gradienti l'una nell'altra, d'accordo? Perciò molto spesso è impossibile indicare un punto nello spazio e dire questo punto è in questo colore o è in quest'altro colore di nebbia, o in quest'altro ancora, perché magari è all'intersezione fra i tre e via dicendo. Perciò non perdeteci tempo, è assolutamente una perdita di tempo stare a sindacare sulle etichette dei generi. Allora, che cosa che scrivevi? L'unica cosa che ho intuito, ma di cui non sono completamente certa, è che entrambi i generi si distinguono abbastanza dal high fantasy di tempo tolkieniano, perché quest'ultimo, sì, sicuramente sono abbastanza distanti, molto distanti dal high fantasy di tempo tolkieniano. Chi non sia un appassionato di fantasy tende a far tutto un calderone e a non capire bene le suddivisioni all'interno, però ricordati che tali suddivisioni appunto non sono fatte con l'accetta. Sì, chiaramente high fantasy è, diciamo, quella originaria, quella progenitrice impostazione di fantasy, di un grande conflitto tra razze e nazioni, quindi un epic fantasy con una forte connotazione di dicotomia morale, quindi bene contro male. E i primi fantasy erano così, i primi epic fantasy erano così, poi nel tempo abbiamo iniziato a essere un pochino stomacati da questo discorso manicheo del bene contro il male, perché abbiamo capito che il mondo non funziona così, che è tutta una sfumatura, e che quindi ci possono essere parti di giusto e sbagliato da entrambe le parti, quasi sempre in effetti è così, quindi abbiamo smesso di avere il gusto al di fuori, al di sopra di una certa fascia di età, abbiamo smesso di avere il gusto per high fantasy, se non apprezzandolo nelle opere del passato, e abbiamo iniziato un pochettino invece a apprezzare le sfumature, appunto. I moderni epic fantasy solitamente mettono in scena ancora grandi scontri fra nazioni in lotta, con magie, creature, razze e quant'altro, ma con delle suddivisioni che sono di natura politica, o di natura etnica, di natura razziale, di natura storica, non più di natura morale, buoni da una parte, cattivi dall'altra. Ci possono essere degli interessi che muovono i conflitti, come nel nostro mondo, come del resto esattamente nel nostro mondo. Il fantasy, infatti, il miglior fantasy, è il fantasy che è una metafora del nostro mondo, che ci magari utilizza draghi e duelli magici e quant'altro per insegnarci valori come l'onestà, il sacrificio, oppure la necessità di esserci per gli altri, la tenacia, o la politica anche. Tutte cose, insomma, che non siano i nani, i nani non nel senso i spazio nani, ma inutili, vuote, affabolazioni, fantasticherie e basta, ma strutture di significato mediate, strutture coerenti internamente, che possano essere, diciamo, astratte dalla loro originale posizione di partenza, che possono essere appunto draghi, duelli magici e quant'altro, e applicati al nostro mondo, alla nostra vita. Tolkien scrive all'interno di On Fairy Tales, il suo famosissimo saggio, che è un po' quello che ha fatto partire il fantasy moderno, scrive, parla molto bene, molto approfonditamente di queste cose, se state pensando a una carriera nel fantasy, io quel testo vi consiglio assolutamente di leggerlo, è un testo che è stato scritto quasi un secolo fa, chiaramente non è più aggiornatissimo, però all'interno di scrivere romance in fantasy trovate tutti gli aggiornamenti necessari, e non lo potete acquistare, lo potrete acquistare a ottobre, quando sarà. Torniamo un attimo a, quindi, epic fantasy e high fantasy. High fantasy ce lo siamo un attimo lasciato alle spalle, continuiamo a muoverci verso l'area che invece interessa a te, Lilith. All'interno dell'epic fantasy, che cosa succede? Una volta che abbiamo superato la dicotomia, bene e male, alcuni autori hanno iniziato proprio a metterci il carico sugli aspetti meno nobili del conflitto, della guerra, come ad esempio il più famoso sicuramente a oggi, fra costoro, è George Martin, l'autore delle cronache del ghiaccio dal fuoco, da cui è stato tratto il celeberrimo show televisivo HBO di Game of Thrones, che a oggi è la serie tv di maggior successo di tutti i tempi e da cui è stato tratto anche House of Dragons, che è invece in fase di pubblicazione in questo periodo. Ora, quali sono le caratteristiche di questa specifica opera, che non è la prima, ma è sicuramente la prima che è diventata così famosa da cementare questi tratti nella coscienza collettiva, è il fatto che appunto non soltanto non ci sono buoni o cattivi in un mondo in guerra, in un mondo diviso da interessi, da fazioni, da alleanze politiche mutevoli, da tradimenti, ma proprio che, guarda, stringi stringi, la vita fa schifo, non ci sono ideali, non c'è l'altruismo, non c'è fratellanza fra gli uomini, la vita è soltanto un conflitto, una gara per il potere, e tutti all'interno di questo conflitto ne rimangono presto o tardi schiacciati, tutti coloro che competono per il gioco del trono, o ne restano prima o poi, cadono e si spaccano la testa, ma in realtà ci si spaccano la testa tantissimo anche gli altri. Ecco, questa, diciamo, questa sorta di pessimismo di fondo, questo mettere proprio anche in scena il fatto che anche personaggi mossi dagli ideali più nobili e che con i quali saremmo spontaneamente portati a ritenere che siano i protagonisti, perché siamo abituati a vederli come protagonisti nelle opere high fantasy e che quindi debbano trionfare, vincere e sopravvivere, invece muoiono malamente anche nell'ottica, cioè sacrificati sull'altare della verosimiglianza, una verosimiglianza tendente al cupo, al pessimista, al dark, appunto. Ecco, questi sono i tratti che attraverso Martin e poi attraverso Abercrombie in un nuovo filone che si è ingrandito acquisendo un'identità, si sono consolidati nel sottogenere del Grimdark. Il Grimdark è nato all'interno del filone primario dell'epic fantasy, del heroic fantasy, e hanno, diciamo, assunto tratti abbastanza riconoscibili, tratti appunto come la mancanza di una speranza, la mancanza di una via d'uscita, una certezza morale, un posto sicuro, mondi narrativi all'insegna dell'impossibilità di un happy ending, di un lieto fine per tutti i personaggi. Magari alcuni personaggi hanno un finale meno schifoso degli altri, però in linea di massima è quello che ci si può aspettare da libri di questo tipo, che comunque conservano una fetta dei tropi del fantasy, creature fantastiche, magia, demoni, ambientazioni inventate e quant'altro, che conosciamo già, ne abbiamo parlato già tante volte qui sul canale. Questo è il Grimdark. In realtà il Dark Fantasy è, cioè il Grimdark, una volta che si è consolidato e che, diciamo, si è staccato come costola dall'epic fantasy, se vogliamo, è finito per confluire all'interno di una cosa che era di molto precedente al Grimdark e che era, aveva semplicemente delle tinte un po' più rarefatte, una identità anche più rarefatta, che è il Dark Fantasy. Il Dark Fantasy è una cosa che si è sviluppata un pochino in parallelo con l'epic fantasy, il High Fantasy e risale all'epoca romantica, risale ai libri di Bram Stoker, risale a Carmilla, risale alla letteratura gotica. Ecco, la letteratura gotica probabilmente sarebbe lì da ricercare l'antesignano del Dark Fantasy. Poi questa, come, in che senso sto dicendo questo? Come serbatoio di troppi, troppi, io ovviamente lo devo ripetere, perché se no la gente si attaccate a queste cose, a volte non so come mai lo fate. Ascoltatele con l'idea di voler capire, invece che dire ah ma questa accezione in cui ho usato la parola non è... Mamma mia! Abbiate meno tempo da perdere, focalizzate le cose importanti. Questo è un consiglio che vi do in generale. Quando, anch'io all'inizio facevo il pignolini, le cose, quando ho smesso di farlo ho iniziato ad avere una carriera, una carriera ascendente, bellissima, e vai eccetera. Alti e bassi, ma comunque. Dicevamo, troppi cosa vuol dire? Allora, in Italia non c'è una parola giusta per definire il topos letterario, d'accordo? C'è la parola topos, che al plurale si declina topoi, d'accordo? Greca. Non c'è in italiano, ok? In inglese c'è una parola che è tropp, che è una, diciamo, dilatazione di una parola che c'è anche in italiano, che è troppi, e che invece è esattamente quello che serve per descrivere i troppi letterari del fantasy, del thriller investigativo, di qualunque genere letterario. Siccome non c'è niente di meglio, usiamo la parola troppi in italiano, troppo, troppi, così, tanto non c'è nessuno che ce lo può impedire, mannaggia, quindi, troppi letterari, cosa sono? Sono i motivi ricorrenti, sono gli andamenti, le situazioni, la caratterizzazione di personaggio, l'archetipo, la scena, l'impostazione, l'idden monarch, il ragazzino che scopre di essere il re che si credeva perduto, sono troppi, va bene? Troppi? Oh, bene. Dicevo, il dark fantasy, il suo serbatoio di troppi, lo ha ricavato in buona parte dalla narrativa gotica, perciò abbiamo questi, il castello di Otranto, Gormenghast, d'accordo? Abbiamo i vampiri, abbiamo queste fanciulle dalla pelle dell'abastro che distrutte da questo amore impossibile in stile cime tempestose, queste atmosfere qui, questi andamenti di storia qua, ok? che poi confluivano nel dark fantasy, il dark fantasy però appunto è più plastico, è più ampio, al suo interno si possono trovare sia storie appunto romantiche, ma di quel romanticismo dell'epoca romantica, non il romance contemporaneo con il lieto fine, si possono trovare altresì storie appunto che confinano con l'horror, horror inteso proprio, anzi, che abitano in un sottogenere con l'horror vero e proprio, la narrativa del terrore, e semplicemente in un'ambientazione fantasy. Anche questo fa parte del dark fantasy, d'accordo? E quindi il grimdark, una volta nato, ha trovato per assonanza, per associazione, un posto, una dimora all'interno del dark fantasy, però il dark fantasy non si esaurisce con il grimdark, è appunto molto più ampio, molto più sfumato, si possono trovare storie di tutti i tipi all'interno del dark fantasy, e possono esserci anche diversi gradi, diverse sfumature di dark fantasy. Esiste tutto un filone di dark fantasy che sconfina nel romance fantasy, in cui ci sono perciò delle ambientazioni molto malinconiche, molto oppressive, molto depressive, con una selezione di appunto tropi che richiamano al fantasma dell'opera, eccetera, ma che poi si integrano con tinte spicy, tinte appunto erotiche, e che magari hanno anche un lieto fine. E allora lì dove siamo? Siamo nel dark fantasy, siamo nel romance fantasy? Siamo da qualche parte a metà fra i due reami, siamo un po' di qui e un po' di là, ma ogni opera fa storia a sé, non è rilevante etichettare, la cosa davvero importante per voi è conoscere le etichette, ma giusto per sapere che tipo di aspettative il pubblico che va a scegliersi quel tipo di opere avrà circa una storia di quel tipo, e questa lo dovete sapere per poter gestire l'aspettativa circa la vostra storia. A questo vi serve conoscere le etichette, non serve a niente essere in grado di ricondurre con precisione un'opera più da una parte o più dall'altra. Il discorso più delirante che sento fare e su cui sento spendere minuti preziosi che spesso diventano ore e giorni è ma quest'opera è più romance o è più dark? Ma chi se ne frega? Gli aspetti romance sono uno, due, tre, quelli dark sono uno, due, tre, quattro, cinque, ma quelli romance sono più... zitto, non voglio sapere se sono più impattanti quelli romance. Non ci interessa, ci sono tutti e due. Finché non c'è una nettissima prevalenza degli uni sugli altri che ci farebbe dire sì, è una sfumatura ma è sostanzialmente un romance, non ci interessa sapere chi è più, dove è più l'uno, dove è più l'altro. Basta, basta questi discorsi. Teniamoli per il tempo libero i discorsi, questo tipo di discorsi. E una volta che entrate nell'ottica dello scrittore professionista vi accorgerete che non avete più tempo libero. Quindi si taglia la testa al minotauro, non più al toro. Va bene? Allora, questo era un discorso molto ampio, molto, molto introduttivo al discorso grimdark, al discorso dark fantasy, fatto senza minimamente andarmi ad aprire i miei vecchi appunti. Probabilmente avrò detto delle cose un po' imprecise, ma di questo argomento, proprio perché su questo argomento voglio tornare, mi sono proprio anche riservato gli slot di studio di quel mese, di quel mese lì, perché è un argomento su cui voglio tornare a documentarmi. Intanto, se avete dei buoni saggi da consigliarmi, visto che a breve, tra qualche mese mi metterò proprio ad approfondire per bene la questione sul dark fantasy, sulla storia, sulla sua storia la conosco già a grandi linee, però, insomma, se avete delle cose da consigliarmi, dei libri di aggiornamento, se avete letto dei saggi o degli articoli, delle cose interessanti, a questo proposito, scrivetemelo qua sotto in descrizione, anche perché preparerò proprio a breve, dopo aver fatto questo studio, preparerò anche un percorso formativo apposta per chi oggi in Italia voglia scrivere green dark o dark fantasy in generale. Va bene ragazzi, perciò, se avete dei suggerimenti, iscrivetemelo adesso così mi porto avanti e gli inizierò a dare un'occhiata prossimamente. Direi che possiamo concludere qui, vi do appuntamento ai prossimi video qui sul canale YouTube di Rottenarrative, perciò iscrivetevi, accendete la campanellina e mettete un like per favore se questo video vi ha quantomeno iniziato a chiarire grosso modo le idee su cosa sia il dark fantasy e in cosa differisca dal grim dark. Arrivederci.